Buonasera, tra poco insieme con le notizie del telegiornale inizieremo raccontando, partendo da quella che è stata l'aggiornamento adesso proprio in chiusura dello speciale del direttore Enrico Mentana su l'uccisione annunciata da parte del Ministero della Difesa russo, quindi la notizia arriva da Mosca, ma del capo, dell'ammiraglio capo dei marin ucraini a Mariupol. Cosa vuol dire? Che sarebbe un colpo durissimo alla resistenza degli ucraini nella città del sud-est, nella regione del Donbass, dove i combattimenti evidentemente continuano. Perché evidentemente? Perché ieri sera, dopo il telegiornale, nella tarda serata, da Mosca, dalla Russia, era arrivato un ultimatum rivolto all'Ucraina. Se le forze che ancora combattono a Mariupol si arrendono, saranno bloccati i combattimenti. Evidentemente, con l'aggiornamento che è arrivato pochi minuti fa, i combattimenti stanno continuando, anche perché lo aveva esplicitamente detto il Presidente Zelensky. La sentiremo, sentiremo parte di quella intervista rilasciata alla CNN, televisione americana, dal Presidente ucraino, nella quale diceva appunto che non ci sono alcune possibilità che possano finire da parte dell'Ucraina i combattimenti nel Donbass, nel sud-est, nessuna concessione. E anzi, Zelensky, che ha detto che la caduta di Mariupol significherebbe, e la presa definitiva da parte dei russi, quello che aveva già detto anche in altre interviste, nelle ore precedenti, ma insomma la caduta nelle mani dei russi di quella regione significherebbe guerra ad oltranza. Concetto ribadito oggi da Zelensky, che in quella intervista però ha detto anche un'altra cosa importante, diverse, ma insomma una più delle altre, si è rivolto direttamente al Presidente Macron. Ricorderete Macron in piena campagna elettorale per le presidenziali, domenica prossima il ballottaggio, in Francia naturalmente, aveva detto che non si può parlare di genocidio per quello che sta succedendo in Ucraina. era una correzione almeno parziale, ma insomma sostanziale rispetto alle parole del Presidente americano Biden. Oggi Zelensky cosa dice? Invito Macron a venire qui a Kiev, nel paese, ci facciamo un giro e così potrà verificare di persona quello che sta succedendo. Evidentemente un appello, provocazione rispetto anche alla richiesta, dicevamo le altre dichiarazioni di Zelensky, di aiuti subito, non tra tre giorni, tre settimane, tre mesi. Ci servono subito aiuti. Questo è quello che racconteremo nel corso del telegiornale rispetto al campo, se così possiamo dire. Dopodiché vi faremo sentire, risentire anche quelle parole pronunciate al microfono del nostro inviato Fabio Angelicchio ad Odessa, dal vescovo di Odessa, nel giorno della Pasqua Cattolica, una settimana da quella ortodossa. Insomma, parole piuttosto distanti dai concetti espressi invece oggi a Roma, nel giorno di Pasqua, da Papa Francesco. Abbiamo il diritto di difenderci, Francesco dovrebbe dire qualcosa di più definitivo rispetto a quello che sta succedendo qui, in icraina, dice il vescovo di Odessa. Poi sentiremo anche che c'è un'intervista importante da parte del presidente Draghi, perché è la prima intervista, non in conferenza stampa, ma proprio in esclusiva, concessa dal premier da quando è in carica, ha parlato con il Corriere della Sera, ha parlato di quello che è successo, di quello che sta succedendo, della sua telefonata con Putin, della richiesta di fermare l'aggressione, evidentemente respinta, ma anche di quello che succede sul fronte, insomma, per quanto riguarda la politica interna, la tenuta della sua maggioranza. Ma insomma, ci siamo, anzi, siamo in leggero ritardo, cominciamo con il telegiornale immediatamente, dopo un breve stacco di pubblicità, 30 secondi, i titoli. Si fa sempre più drammatica la situazione a Mariupol, questa mattina è scaduto l'ultimatum delle forze russe che hanno intimato agli ultimi difensori di deporre le armi per avere salva la vita, ma la città non si arrende, combatteremo fino alla fine, dice il premier ucraino, sotto le bombe anche Kharkiv, 5 bambini ucraini uccisi da mine e trappole nella regione di Sumi. E l'Ucraina non è disposta a cedere il Donbass per porre fine alla guerra con la Russia e la posizione ribadita dal presidente Zelensky alla CNN, pubblicata, registrata alcuni giorni fa, pubblicata oggi, poi ha fatto sapere di aver invitato a Kiev il presidente francese Macron che aveva giudicato inopportuno il conflitto in corso, come definirlo, come genocidio. Sulle sanzioni a Mosca avverte il default della Russia, Mosca avverte il default della Russia potrebbe comportare il fallimento, il default anche dell'Europa. Da San Pietro il grido di Papa Francesco per la pace, abbiamo visto troppo sangue in Ucraina, è una Pasqua di guerra, poi l'appello a tutta la comunità internazionale, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre, ma il vescovo di Odessa lo critica, Bergoglio dovrebbe fare di più e spiegare le cause del conflitto. Un chiaro riferimento alla scelta del Papa di non fare mai riferimento alla Russia, al presidente Putin, nei suoi appelli contro la guerra. Prima intervista da quando è diventato presidente del Consiglio di Mario Draghi. Traccia un bilancio sul governo, ha fatto tanto, dice, lancia l'appello a tutte le forze politiche. Ora avanti senza dividerci, aggiunge, Draghi, inoltre conferma che il governo reggerà in aula sulla riforma del fisco e sulla giustizia. E sull'Ucraina dice ancora, giusto mandare le armi, la pace vale sacrifici, ma per gli italiani saranno comunque limitati. E l'Italia si prepara a celebrare tra otto giorni, il 25 aprile, Lampi avverte che farà il possibile per evitare provocazioni. Le bandiere Nato, ha detto il presidente Pagliarulo, sono inappropriate. Secondo noi sarebbe sbagliato equiparare la lotta dei cittadini ucraini con quella avvenuta in Italia, che si è svolta in un contesto totalmente diverso. Ancora le parole di Pagliarulo. Buonasera, dunque lo avete sentito ribadito e lo abbiamo ripetuto in sede di presentazione del telegiornale e nei titoli. Da quello che succede nella regione al confine tra Ucraina e Russia, in quel Donbass, che adesso sappiamo esattamente dove si trova, nella città di Mariupol, dipende l'esito del futuro, dei prossimi giorni del conflitto. Perché? Perché lo ha detto anche oggi, ancora una volta, il presidente ucraino Zelensky. Se la regione cadrà in mano ai russi, la guerra andrà avanti ad oltranza. E questo, mentre arriva, lo abbiamo detto proprio pochi minuti prima dell'inizio del telegiornale, la notizia da parte di Fonte Russa della uccisione. È caduto l'ammiraglio dell'esercito ucraino Baranszuk, che è il comandante dei Marine, il comandante a Mariupol delle forze ucraine. Insomma, i combattimenti vanno avanti, gli scontri vanno avanti e l'appello di Zelensky, quando dice siamo pronti ad andare avanti ad oltranza, evidentemente è rivolto a Putin, ma anche a chi lo deve aiutare. Non succede nulla alle 5 del mattino. L'ultimatum lanciato dall'esercito russo a Mariupol è appena scaduto, ma nessuno si arrende, nessuno attacca. Ciò che resta del battaglione Azov, ormai assimilato all'esercito ucraino, tiene la posizione tra gli altoforni delle acciaierie Azovstal, in una calma irreale. 23 volte invece viene colpita Kharkiv. 23 volte la sirena dell'allarme ha suonato. La gente è corsa nei rifugi, poi i soccorsi sono usciti per aiutare i feriti e di nuovo i bombardamenti sono ricominciati con una tecnica collaudata che moltiplica le vittime. Cinque oggi. A Borodianca sono stati ritrovati i corpi di altre 41 persone uccise nei giorni scorsi e finalmente estratte dalle macerie. Morti che vanno ad aggiungersi ai quasi mille, contati nelle ultime ore per lo più vittime di esecuzioni. Fra di loro tanti bambini e adolescenti. come adolescenti erano i ragazzi sui quali i russi hanno sparato in un villaggio vicino Kherson. Stavano andando a comprare il pane, uno di loro non ce l'ha fatta, o i cinque bambini uccisi dalle trappole minate a Trostianetz. L'attenzione internazionale però è concentrata sulla sorte di Mariupol. Il portavoce del Ministero della Difesa russa, parlando ai soldati asserragliati nei cunicoli delle acciaierie, lo ha detto chiaramente, sarete tutti eliminati. 1200 uomini circa, più quelli che Mosca definisce mercenari, 400, di 6 nazionalità diverse secondo le conversazioni intercettate e 100 donne soldato. È Kiev che impedisce loro di arrendersi, sostiene la versione russa, opposta a quella ucraina. Come verrà sferrato l'attacco finale è tuttavia poco chiaro. Difficilissimo procedere via terra, complicato bombardare gli 11.000 metri quadri di quella che sembra una città nella città. Forse il gas o addirittura l'acqua, aspirata dal mare e pompata nei sotterranei per annegarli. Sia come sia, la caduta di Mariupol sarebbe un primo vero successo russo, dopo la perdita oggi sul campo dell'ottavo generale, il vice comandante dell'ottava armata proprio a Mariupol, ma anche il punto di non ritorno di questa guerra. Lo dice il presidente Zelensky che chiede armi subito in alternativa, un percorso negoziale nel quale i partner occidentali, leggi soprattutto Stati Uniti e Regno Unito, svolgano un ruolo decisivo. Lo conferma il ministro degli esteri ucraino, Kuleba, che tuttavia ammette dopo bucia trattare molto più complicato. Sono settimane che non ci sono incontri diplomatici ad alto livello, Mariupol, ha aggiunto, può diventare una linea rossa. Quello che è certo è che nel frattempo le armi dagli Stati Uniti sono in arrivo. 11 elicotteri, 18 cannoni Hovitser, 300 droni. Meno sollecita l'Unione Europea, tanto che mentre il presidente Zelensky parla di colpevole lentezza, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, intervistata dalla Bild, esorta gli Stati membri dell'Unione ad agire più rapidamente. Anche perché, dicono i vertici militari ucraini, non è affatto escluso un nuovo tentativo da parte russa di conquistare Kiev. Per ora però continuano i rapimenti. Questo è il sindaco di Kirilivka, vicino Zaporizia. I soldati russi hanno circondato il suo villaggio e se lo sono portato via. E alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è rivolto direttamente il braccio destro l'ex presidente russo Medvedev dicendo, a proposito di alcune dichiarazioni della von der Leyen su il possibile crollo, fallimento della Russia dopo, in conseguenza, delle sanzioni dell'Unione Europea. Medvedev ha detto che se fallisce la Russia fallisce con un avvertimento anche l'Unione Europea. Ma poi avete sentito la intervista, le parole del presidente ucraino Zelensky, quell'appello a chi lo sostiene, a chi promette aiuti ad accelerare, a mandarli subito, non rinviando. Avete sentito l'arrivo di aiuti da parte degli americani, delle incertezze da parte degli europei. Ma in quell'intervista che Zelensky ha concesso alla televisione americana CNN ha parlato anche delle dichiarazioni, recenti dichiarazioni del presidente Macron. Quell'attenzione a definire genocidio rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina, detto da Macron, ricordiamolo, comunque in piena campagna elettorale. Quindi Macron che tiene conto anche dell'opinione pubblica interna. Zelensky ne tiene conto meno dell'opinione pubblica interna francese. Ha detto a Macron, vieni a vedere cosa sta succedendo. Facciamo un giro a Kiev e dintorni. Ho invitato Emmanuel Macron a venire a Kiev. Quando avrà occasione verrà e vedrà, e sono sicuro che allora capirà questa non è una guerra ma un genocidio. Alla CNN Volodymyr Zelensky conferma l'appello rivolto al presidente francese che ha giudicato inopportuno definire il conflitto come un genocidio danneggerebbe un possibile dialogo. Come ha messo però anche dal ministro degli esteri ucraino nelle ultime settimane sono stati azzerati. I contatti ad alto livello tra Kiev e Mosca ha negoziato i bloccati, insomma, il braccio di ferro e sulle accuse reciproche. La Russia continua a chiamare tutto questo operazione militare, non guerra. Ma guardate cosa è successo a Buccia. È chiaro che questo non è nemmeno una guerra, è un genocidio. Stanno uccidendo gente, non soldati, genti. Sparano la gente per strada. Sparano le persone. Persone che stanno andando in bicicletta, che stanno prendendo l'autobus, che stanno camminando per strada. Sul fronte opposto Vladimir Putin rilancia modi sfida e si è detto intenzionato a collaborare nella futura inchiesta internazionale sui presunti crimini di guerra commessi dalle forze russe. Lo ha annunciato in un'intervista alla NBC americana e il cancelliere austriaco Niamer, che l'11 aprile scorso ha visto al Cremlino il presidente russo. Ma non è chiaro a quale inchiesta si riferisca Putin, sia quella della Corte Penale Internazionale oppure a quella dell'ONU. Sta di fatto che per il governo ucraino le possibilità di successo della trattativa con Mosca diminuiscono giorno dopo giorno. La nostra società non vuole negoziati, ha detto Zelensky alla CNN. Possiamo combattere anche per dieci anni, ma per farlo ci vogliono armi e mezzi e in fretta prima arrivano e prima potrà riprendere il dialogo negoziale. L'ultima richiesta a Ucraina di posporre la discussione sullo status della Crimea dopo il ritiro dell'esercito russo è stata bocciata dalla controparte. Serve solo a guadagnare tempo per ottenere l'assistenza militare occidentale, ha dichiarato il presidente della Duma, Volodin. Intanto l'Unione Europea si prepara a varare il sesto round di sanzioni che dovrebbe includere petrolio e banche russe, Sberbank in particolare, la più grande del paese col 37% del settore creditizio confederale e il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ed ex presidente Medvedev avverte un default della Russia potrebbe comportare il default dell'Europa visto che le sanzioni antirusse rischiano di innescare una iperinflazione in tutto il continente. Guerra che va avanti, va avanti nel giorno della Pasqua Cattolica una settimana da quella ortodossa. Ma insomma, in questa domenica 17 aprile non si ferma il presidente Putin, non ascolta gli appelli della diplomazia, non ascolta evidentemente nemmeno le invocazioni di leader religiosi. E allora, cosa possiamo fare se non difenderci? Esattamente questo ha detto il Vescovo di Odessa intervistato dal nostro inviato Fabio Angelicchio, il Vescovo di Odessa che si chiama Stanislav Sirokorajuk. Sentiamo le sue parole. È Pasqua anche per i cattolici ucraini, per gli ortodossi lo sarà tra una settimana e nonostante la minaccia nell'aria anche a Odessa i fedeli sono andati a messa. La cattedrale dell'assunzione di Maria Vergine è la sede del Vescovo Stanislav Sirokorajuk, un francescano dall'italiano fluente e dalle posizioni chiare. La chiesa non potrebbe far ragionare i contendenti? Me lo dica lei? Cattolica chiesa, sì, noi facciamo tutto che è possibile, ma la nostra chiesa in Russia è molto, molto ogranicita, molto limitata, molto limitata. e la chiesa russa, ortodoxa, questa è una parte dello stesso politico. Chiesa ortodoxa come strumento con questo imperio, come strumento. Anche Kirill, la stessa scuola, la stessa scuola, patriarca Kirill e Putin la stessa scuola. Ma Papa Francesco non potrebbe dialogare con il patriarca Kirill? Sarebbe bene, sarebbe bene, ma io non lo so se questo è possibile. Ma le critiche del Vescovo di Odessa non si estendono solo alla chiesa ortodossa russa. E Papa ha detto niente, niente parola, solo guerra, questo è molto difficile, guerra, chiaro che guerra è questo, ma forse Papa non può. Papa deve dire solo, solo questo. L'Occidente sta armando l'Ucraina, secondo lei è una cosa giusta, è la strada giusta? Oggi? Come, 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 come altro. Come altro. Defensa, defensa deve essere. L'Ucraina ha il suo armato, ha il suo, il suo bravo, il suo diritto, e devo, devo fare tutto che è possibile, che, no, perché c'è una ruota. Per difendersi. Per difendersi, devo, devo fare tutto che è possibile. Parole chiarissime, le avete sentite, sulle responsabilità di Putin e della chiesa ortodossa. Rispetto all'aggressione del popolo ucraino, cosa possiamo fare se non difenderci, dice il Vescovo di Odessa. Parole che si è rivolto direttamente a Papa Francesco nel giorno della Pasqua, e Papa Francesco oggi naturalmente ha parlato. Sentiamo cosa ha detto. Da Piazza San Pietro a Castel Sant'Angelo, centomila persone hanno seguito in presenza le celebrazioni pasquali di Papa Francesco. Dopo due anni di pandemia, un tunnel dal cui stavamo uscendo, ricordato al Pontefice, invece è arrivata la guerra. Non c'è ancora lo spirito di Gesù, c'è ancora lo spirito di Caino, che guarda a Bele, non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo. Nella benedizione urbi e torbi di questa domenica di Pasqua, il Papa ha continuato instancabile ad invocare la pace, da chiedere tutti a gran voce. Sia pace per la martoriata ucraina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza. Si scelga la pace. Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Il Pontefice si è rivolto ancora una volta a chi governa, citando la dichiarazione di Russell ed Einstein per il disarmo nucleare per una soluzione pacifica alla guerra, sottoscritta da scienziati intellettuali nel 1955. Chiara responsabilità delle nazioni, ascolti il grito di pace della gente, ascolti quella inquietante domanda posta dagli essensiati quasi 70 anni fa. Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? Questa è una Pasqua di guerra dove i nostri sguardi sono increduli, ha detto Francesco. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza, anche i nostri cuori si sono riempiti di paure e di angoscia, tanto da fare quasi fatica a credere che Gesù sia veramente risorto. speranza nella riconciliazione e vittoria dell'amore sono le armi per arrivare alla pace. Poi il suo pensiero si rivolge alle vittime ucraine, prega per i morti nel conflitto, ricorda i milioni di rifugiati e sfollati, gli anziani soli e bambini rimasti orfani. L'invito a fermare la guerra, l'invito a incontrare il presidente Zelensky lo ha rivolto a Putin direttamente in un contatto telefonico lo scorso 30 marzo il premier, il presidente del Consiglio Mario Draghi. Draghi ne ha parlato nella sua prima vera e propria intervista, non in una conferenza stampa, una vera intervista diretta, singola con il Corriere della Sera e al direttore del Corriere della Sera, Fontana, ha parlato non solo dei temi di politica estera, della guerra, l'attacco della Russia in Ucraina, ma anche di politica interna e dei rapporti interni tra i partiti che sostengono la sua maggioranza. Non sono stanco ma ho l'intenzione di governare e affrontare le emergenze secondo il mandato che il presidente della Repubblica mi ha dato lo scorso febbraio. Questo è decisivo, non bisogna governare per il potere fine a se stesso. Sceglie il nero su bianco del Corriere prima intervista ad un quotidiano italiano, Mario Draghi, per mettere a verbale quanto lasciato filtrare dal suo staff nei giorni scorsi nei momenti di massima fibrillazione della maggioranza sotto i veti e distinguo di Giuseppe Conte sulle spese militari e di Salvini e Tajani sul catasto e sulle tasse. Il concetto che no non è una leadership stanca la sua che non è affatto intenzionato a lasciare Palazzo Chigi ma che tuttavia deve essere messo nelle condizioni di esercitarla, di chiudere i delicati dossi aperti e gestire pandemia e ora la guerra in Ucraina nelle direzioni intraprese e, altro monito forte, approvate quasi all'unanimità dal Parlamento. Lo ricorda in diversi passaggi Draghi il vastissimo consenso parlamentare sulle decisioni cruciali a cominciare dall'invio delle armi alla resistenza ucraina definita senza giri di parole eroica. I termini della questione sono chiari da una parte c'è un popolo che è stato aggredito dall'altra c'è un esercito aggressore le sanzioni sono essenziali per indebolire l'aggressore ma non riescono a fermare le truppe nel breve periodo risponde Draghi non è il momento di rimproverarsi antiche amicizie simpatie affari aggiunge non aiutare gli ucraini e qui varrebbe a dire loro arrendetevi aggiunge messaggio contrario ai nostri valori valori che di conseguenza valgono i sacrifici la pace vale i sacrifici era il senso del dilemma simbolico scegliere fra pace e condizionatori osserva il premier implicitamente replicando alle critiche di chi lo aveva accusato di semplificazione ma è attento Draghi a rassicurare che anche le sanzioni sull'energia non saranno drammatiche c'è gas negli stoccaggi al massimo saranno prese misure di contenimento pochi gradi per riscaldamento e condizionamenti più vago sulla questione insidiosa le sanzioni sul gas russo richieste anche oggi dal presidente Zelensky l'Europa deve essere unita dichiara rilanciando la proposta italiana di un tetto comune sul prezzo del gas fin qui tuttavia poco recepita si mostra pessimista invece sulle intenzioni della Russia a maggior ragione dopo l'ultima telefonata con Putin seguita sottolinea dagli orrori di bucia fa bene Macron a tentare dialogo con il presidente di turno dell'Unione Europea ma non sta funzionando il senso ai partiti della maggioranza indicati come un insieme rivolge l'invito a guardare le cose fatte dalle vaccinazioni al PNRR all'economia che era cresciuta e che ora non è in recessione solo in rallentamento obiettivo non facile in campagna elettorale puntare a tranquillità e non ansie come dice la Pasqua tiene lontane le risposte dei leader Enrico Letta parte che si dice via Twitter in totale sintonia Inevitabilmente inevitabilmente l'aggressione di Putin della Russia all'Ucraina lega come un filo un po' tutte le notizie che stiamo dando nella edizione in questa edizione del telegiornale nella scaletta e allora condiziona e sta condizionando anche il dibattito in vista delle celebrazioni della festa del 25 aprile tra otto giorni dividendo anche tra di loro rappresentanti e partiti della sinistra divisi in particolare dalle parole del presidente dell'Ampi l'associazione partigiani Gianfranco Pagliarulo A poco più di una settimana del 25 aprile le polemiche sull'Ampi in particolare sulle dichiarazioni del suo presidente Gianfranco Pagliarulo aggiungono oggi un nuovo capitolo Reo di aver rilasciato dichiarazioni equidistanti sul conflitto russo-ucraino e critiche alla Nato con l'ultima polemica riguardante la bandiera della Rosa dei Venti non gradita da Pagliarulo bisogna parlare di pace e la Nato non mi sembra essere un organo di pace queste le esatte parole parole bollate come filo putiniste dai suoi detrattori accuse rimandate con sdegno dal diretto interessato oggi sul web sono ribalzati post datati 2014-2015 dove Pagliarulo allora direttore della rivista Patria Indipendente organo di stampa dell'associazione nazionale partigiani prendeva una posizione netta e chiara su chi nel conflitto in Donbass fosse l'aggredito e l'aggressore come ad agosto 2014 quando condividendo un comunicato del sito russia.it Pagliarulo sostenesse che fosse l'Ucraina definendo quello di Kiev un governo nazista a cercare un conflitto con la Russia oppure come in un post del 9 settembre 2014 dove Pagliarulo condivise un articolo di Repubblica sul rapporto del volo MH17 abbattuto in terra Ucraina il 17 luglio 2014 per l'attuale presidente Lampi la colpa doveva essere di Kiev opportuno ricordare che un'indagine congiunta composta da esperti provenienti da Australia Belgio Malesia Olanda e Ucraina arrivò alla conclusione che il missile che abbatté l'aereo fosse di origine russa infine e forse ancora più clamorosa è la presa di posizione di questo post di Facebook del 14 gennaio 2015 dove linkando un articolo di Repubblica a commento della decisione di Vladimir Putin di non partecipare alle nuove celebrazioni di Auschwitz nel giorno della memoria in polemica con i leader occidentali reddi aver appoggiato l'Ucraina durante la crisi nel Donbass e la missione della Crimea Pagliarulo volò l'articolo così si tratta di una sequenza di giudizi senza uno straccio di prova a cui si giustappone il totale silenzio sui massacri da parte del regime di Kiev sulla sua illegittimità è nato di fatto da un colpo di Stato foraggiato dagli Stati Uniti giudizio netto su chi secondo Pagliarulo avesse ragione o torto nella disputa tra i due paesi e a Chiosa con una domanda e un'affermazione ma chi si vuole prendere per i fondelli questa spazzatura non è giornalismo è solo propaganda di guerra una propaganda che sembra scritta sotto dettatura della CIA domanda e affermazione che lasciano pochi dubbi sul punto di vista di Pagliarulo e lanciano ulteriore benzina sul fuoco per il prossimo 25 aprile ed è stata si sta svolgendo una domenica di Pasqua la prima dopo due anni senza restrizioni e allora i dati che arrivano comunque sono nella direzione di un miglioramento della situazione perché dove da giorni la curva del contagio non cresce dal bollettino del Ministero della Salute e allora ci sono 51.000 come vedete 993 nuovi casi contro i 63.815 di ieri 334.000 e oltre i tamponi processati con un tasso di positiva al 15.5 e in leggero aumento rispetto a 24 ore fa in calo per il sesto giorno di seguito le ospedalizzazioni meno 8 unità le occupazioni dei posti letto nelle terapie intensive ci sono però ancora 85 vittime ed ora lo sport perché si chiude domani con due sfide Napoli-Roma e Atalanta-Verona la giornata di campionato campionato che sta regalando davvero un finale appassionante in testa e in coda beh nonostante questo però c'è chi pensa ad altro pensa a organizzarsi per il futuro possono andare d'accordo con continuità e rinnovamento così su due piedi sembrerebbe proprio di no ma di fatto un campionato che sta per lanciare la volata finale vede nella convivenza fra questi due fattori uno dei motivi più interessanti di questo periodo sebbene ormai restino da giocare sei giornate più qualche recupero è curioso osservare le grandi a caccia dello scudetto e non solo loro che ancora invocano continuità ma al tempo stesso parlano di profondo rinnovamento è il caso del Milan primo in classifica in una fase altalenante con il tecnico Pioli alle prese con la scarsa vena realizzativa dei suoi ma anche con un importante e promettente cambio di gestione che potrebbe stravolgere il destino del club rossonero tra Elliott attuale proprietario e il fondo di investimenti del Bahrain Invest Corp sarebbe in corso una trattativa per l'acquisizione della squadra rossonera per un miliardo di euro si parla di una fase di controllo dei conti e bilanci dei club il closing non dovrebbe arrivare prima della fine del campionato ma anche la Juventus di Andrea Agnelli sembra essere ad un bivio la squadra lotta per rimanere nelle quattro che avranno accesso alla Champions League per salvare una stagione al di sotto delle aspettative nonostante i 70 milioni spesi in corsa per Vlaovic il pareggio interno di ieri con il Bologna e le critiche del tecnico Allegri al suo pacchetto difensivo hanno quasi fatto da cassa di risonanza alla presenza allo stadio di Alex Del Piero capitano sempre amato dei tifosi bianconeri e non solo tanto da ipotizzare una sferzata una ventata nuova per chiudere con alcuni nomi che fra inchieste e tribunali seppure senza condanne non hanno portato lustro e titoli europei in casa della vecchia signora gli uomini passano la Juventus resta puntualizza l'Apoel Kahn sui social auspicando in qualche modo un cambio di direzione e di protagonisti adesso una pausa ci rivediamo con gli eventuali aggiornamenti dopo la pubblicità di nuovo in studio per ricordarvi che l'informazione torna con l'edizione della notte del telegiornale per quanto ci riguarda è tutto grazie per averci seguito buona serata e ancora una volta buona Pasqua grazie per averci seguito